3-0 al Modena con doppietta di Da Silva e gol di Verdi e secondo posto assicurato. Il toro di Antonino Asta ha chiuso sabato sul campo del Don Mosso la stagione regolare del campionato primavera con 49 punti, alle spalle dei cugini bianconeri, ma davanti a squadre sulla carta ben più dotate come Fiorentina e Genoa. Un traguardo, se non storico, certo di grande prestigio per i giovani Granata, attesi ora la Final 8 di Gubbio che assegnerà lo scudetto, fase finale alla quale sono approdate anche Inter Milan, Roma e Lazio, oltre alla Juventus. E dire che per il toro il campionato era iniziato nel peggiore dei modi, addirittura con un pesantissimo passivo e un 7-0 rimediato contro il Genoa, sconfitta che paradossalmente ha fatto da molla per tutte le successive 25 partite, fino alla vittoria nel derby, 1-0 ai bianconeri sul loro campo di Vinovo. Essere qui ed andare alla Final 8, quindi l'accesso di diritto alle fasi finali, non lo so se parla di straguardo storico, può esserlo più o meno, ma sicuramente è un'annata da incorniciare e da ricordarci a lungo. Traguardo insperato è inizio stagione, quello della Final 8, ma comunque finisca la fase finale del campionato, Antonino Asta la prossima stagione non siederà più sulla panchina Granata e come ha voluto ribadire il mister, non per sua volontà. Io fino a tempo fa volevo rimanere al Toro, ero convinto, però vi ritorno a dire, bisogna essere in due e anche di più quando si fa il matrimonio, non può essere solo una persona, anche dall'altra parte ci deve essere il giusto rapporto per continuare. Un addio non consensuale, una scelta che non tutta la tifoseria è disposta a comprendere ed accettare. Visto l'ottimo lavoro del mister, l'attaccamento alla maglia dimostrato da Asta in campo e fuori. La società da qualche tempo lavora a un nuovo progetto e ad allenare la primavera sarà a Moreno Longo, promosso dopo l'esperienza con gli allievi nazionali.